buongiorno a tutti mi chiamo simone barazzotto e vi sto per presentare i bbl italian brand basketball league insieme alcuni amici scoprirete perché ci dovrete dare una mano a sostenerlo su effela che cosa sarà i bbl sarà un torneo never ending che si svolgerà per le strade di new york nei playground della città che non dorme mai e i protagonisti di bbl saranno le aziende italiane che vorranno promuovere il proprio brand negli stati uniti e per fare tutto ciò io ho portato con me due amici che vi stupiranno si presentano da soli antonello riva e ottavio missoni ho iniziato questa bellissima esperienza e sono davvero emozionato nel pensare che il 5 febbraio saremo tutti insieme al barclay center sul parquet dei bruclin nets a dare il via ad un progetto così ambizioso il vostro sostegno sarà importantissimo è una grande emozione portare le nostre aziende italiane on the road nei playground più belli della grande mela ed organizzare degli eventi nei palazzetti dove gioca l'nba da imprenditore facci complimenti per questa idea originale innovativa per sostenere made in italy utilizzando lo sport più amato dagli americani allora ricapitoliamo bastano pochi euro per ricevere una divertente ricompensa legata al basket ma se credete in noi e volete provare l'ebrezza di scendere in campo in un tempio dell'nba allora con 2.500 euro avrete tre giorni in hotel il volo e il posto in squadra garantito alla prossima partita che faremo al barclay center ci sarete anche voi straordinario sostenere made in italy e realizzare un sogno cosa chiedere di più gli hanno detto che in america saranno con noi tanti altri amici valentina roberto ringo pippo dove siete ciao antonello io sto facendo la valigia e l'unico problema è che non so dove infilare il pallone da basket guarda mi escono pure dagli occhi a parte gli scherzi ragazzi mi raccomando dovete sostenerci nel nostro crowdfunding su appela.com ehi ehi sono sono qui sì ci sono antonello ciao a tutti ma certo che ci sono io mi sto allenando sto preparando i bagagli mi sto preparando mi sto allenando a diventare più alto sì vabbè ci provo ci provo metterò le scarpe da basket con i tacchi e mi raccomando a tutti quanti noi ci siamo siamo pronti aspettiamo soltanto che anche voi partecipiate al crowdfunding su appela.com quindi attivi tutti noi ci siamo ci sarete voi vai aspetta 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 un momento mi sto preparato ma non sono ancora pronto ad essere così alto e tu che ti guardi e tu che ti guardi ciao dobbiamo andare a new york perché già sono andati avanti antonello riva barazzotto e la vignali mancano due manchiamo siamo pronti allora comincia ad allenarti con questa ringo che ci siamo e per il grande avvenimento della basket artisti di bbl ok io vado a new york questa roba qua sì ma è una cosa per il culo dai ma cosa fa dai ma so dai è da gonfiare oh vedi è un attimo allora vengo a new york ragazzi stiamo per arrivare ringo e pipo palmieri mi raccomando però sosteneteci sul crowdfunding appela.com importantissimo sì dovrete mettere il cash mettete mano alla tasca e mettete il grano se no non andiamo a new york ciao ciao cosa aspettate sostenete i bbl e il sogno di giocare in un playground di new york o di scendere in campo in un tempio dell'nba potrebbe diventare realtà let's go